Mi hanno contattato per questa giornata della Befana del Prematuro. Devo dire la verità, per me è stata ed è una grande emozione che hanno pensato a me e che comunque oggi mi trovo qua stamattina per stare in mezzo ai bambini. Comunque è una cosa che per i bambini si fa tutto. Io sono mamma e ho un bimbo di due anni e mezzo. So che cosa vuol dire comunque crescere un bambino e se hanno problemi, soprattutto poi alla nascita, è una cosa che comunque fa male e sono veramente contenta di poter essere almeno per un giorno vicino a questi genitori, tra l'altro i genitori sono la forza dei bambini fondamentalmente e sono molto molto contenta di essere qui.